L'ANSA, agenzia di formazione giornalistica, ha presentato ufficialmente ViaggiArt, portale tematico e app, che permette di conoscere il patrimonio artistico e culturale italiano ed essere informati sulle notizie del settore. L'app si scarica gratuitamente, collegandosi agli store, Apple e Android. All'incontro ha partecipato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte.